652 nella provincia di Arezzo, oltre 6.500 in tutta la Toscana sono i richiedenti asilo accolti negli ultimi due anni. Si conferma vincente il modello di accoglienza diffusa della regione, utilizzato la prima volta nel biennio 2011-2012 a seguito delle primavere arabe e riproposto nel 2014-2015 a seguito dell'inaspirsi dei conflitti in Medio Oriente e Nord Africa. 6.500 persone distribuite in tutta la regione, con una media di un ospite ogni 600 residenti. La provincia di Arezzo, con gli oltre 650 richiedenti asilo ospitati, è terza in Toscana dopo Firenze e Livorno, a seguire Lucca, Siena e Pistoia, Fanalino di Coda, Massa Carrara, che sfiora le 300 unità. Un'accoglienza resa possibile dalla collaborazione con le istituzioni locali, le amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato, nonostante la regione si fosse premunita di strutture mobili provvisorie, sono stati sufficienti case ed appartamenti sfitti, locali di associazioni o alberghi vuoti. I profughi sono stati distribuiti in più di 500 diverse strutture, con pochi ospiti per ciascuna, spesso meno di 20, una caratteristica che ha reso meno problematico l'inserimento degli stanieri nel tessuto locale. Numerose le iniziative che hanno visto i richiedenti asilo coinvolti in attività di volontariato, spesso legate al decoro urbano dei centri che li hanno accolti. Ad Arezzo, particolarmente attive in questo ambito, sono state realtà come la Caritas Diocesana e l'Associazione Culturale del Bangladesh. Gli sbarchi non si sono mai fermati, ma in primavera si intensificheranno. In questa prospettiva, la Regione sta lavorando alla fase B del progetto di accoglienza, che è stata appena illustrata a gestori e sindaci riuniti a Firenze per una giornata di bilancio e approfondimento.